Ciao a tutti, io sono Italandia, benvenuti a questo nuovo video, oggi vi fallerò, non so cosa aiutare, ma ormai lo sapete che quando non fuori vado poi dentro a casa e soprattutto faccio il tema, così, tanto per, oggi mi piace una cosa che è una cosa molto importante e non so dove si trova, beh togliamo noi, e questi giorni faccio fatica a fare i vlog, perché un uomo ha il tempo, io non ho tempo di fare un cavolo, nemmeno di sfigare, ecco cosa voglio parlarvi, il tempo, perché veramente non ho spazio per me, la mia vita è casa, lavoro, e poi ho detto casa, casa o casa, io non ce la faccio più, o cambio delle cose, o nel giro, non so, in giro, in giro, non posso perché devo, devo fare tutte queste cose, non ho più una vita, non ho più una vita, non posso neanche ottenere i miei capelli perché mi sono sempre pegnato, per dire un esempio, già non posso andare in giro, in giro, in giro che voglio andare, se voglio andare, avere legali, locali perfetti per me, non posso andare, infatti che non ho amato, non è quello, ma non posso fare tutta la vita così, mi fanno togliendo la foglia di vita, non ho manco il tempo per me, solo domani, che bellezza, per altri giorni, no, niente, che bellezza, per altri giorni, io sono il truffo, quindi oggi, la sera voglio parlare, e lo vero è che farò solo, la sera, la cena, la prossima settimana, perché ci sono persone, mi voglio, non voglio venire, oh, non solo per quelli, non solo per i soldi, anche per, sforzare, posso vivere, mi montare lì, l'ansia, perché non posso fare un cauro, perché devo montare con loro, così mi passa la voglia di andare lì, mi danno, eh, come lì, Ecco io, come ho detto prima, di cosa io dirò oggi, stasera, o domani, o non domani, tu vedi? Per voi è vero, non per me è mercoledì, no, è mattedì, non complicato, mi fanno cogliere anche su. Il tempo, non sono di tempo, non sono ancora, perché già non è oggi, non sono di santo video. E poi lo decigeno, mi stanno togliendo anche quello, lo decigeno. Non ho più un anno, non ho più tempo, non ho più niente, io sono sulle palle. Questa situazione è qua. Perché con un pacco, in questo caso, il progetto non lo faccio più, non lo mettono in un video tutti i giorni. Non so per questo. Come se lo vino, non posso manco tagliare i capelli, credo che sono sempre da fare. Io voglio sempre mangiare lì con loro. Io voglio vivere. Come faccio vivere se loro non mi fanno stare tranquilli, stare da solo, da solo. perché non mi fanno stare con loro quasi tutti i giorni. Io voglio fare la vita nel fuori di settimo. Non posso, perché sono sempre impegnato con loro. Io voglio fare tanti video diversi, no, perché non ho tempo. Adesso mi calmo e ci vediamo tra poco, quando è tutto buio. La agenda è finita, quello che vi ho detto, il vero, il vero, il vero, il vero, il vero. E se lo stagite vi già, sorridete, perché avete una vita sola. Ciao, alla prossima.